Non ne posso più. E non è ciò? Tutti che offrono. Gratis. Senti che rumori. Basta! Qui ci si sente bene, vero? È la qualità digitale GSM Omnitel. Digitale? E l'ingresso è gratuito. 238.000 lire di risparmio per chi si abbono entro il 5 gennaio. Con un NEC G8 a 490.000 lire invece di 690.000. E questo è il mio numero. Non mi tenti, no. Nessuno è perfetto. Sono sposato.